Cosa spinge WeBank a credere in investing? L'anno scorso è stato il nostro primo anno, visto il successo dell'evento riteniamo che l'investing è un'ottima vetrina per WeBank per illustrare al meglio i propri prodotti. Poi noi crediamo molto nella formazione, infatti sul nostro sito abbiamo una parte proprio specifica sugli eventi dove c'è un ricco programma e non da ultimo a fine settembre partirà un tour che andrà a coprire 5 città italiane dove in collaborazione con l'Eurex andremo a mostrare tutto sul principale mercato europeo sugli strumenti derivati. Brevemente mi descrivi la vostra piattaforma? La T3 ha la possibilità di accedere sui principali mercati finanziari, noi ampliamo sempre la nostra gamma di prodotti e strumenti derivati, infatti a brevissimo daremo la possibilità ai nostri trader di poter operare sulle opzioni con sottostante il mini NAS 100. Poi abbiamo un tool grafico che permette di fare dei grafici con i time frame che possono essere dall'XDIC al settimanale, al giornaliero. Possono i nostri trader compensare i propri margini, possono utilizzare e quindi creare le proprie strategie di trading utilizzando sempre, impegnando sempre meno liquidità.